benvenuti ragazzi al sesto ed ultimo video sulla storia del restauro della nostra ferrari mondial t dopo la riformatura del teleietto motore nell'ultimo video abbiamo visto la regolazione fine dell'assetto e il montaggio del nuovo sistema di scarico tubi style in sostituzione dell'originale che ha portato una notevole differenza nel feeling con la vettura ora con quest'ultimo video vogliamo mostrarvi il lavoro fatto sulla carrozzeria e la verniciatura di alcune parti per migliorare il risultato finale anche dal punto di vista estetico dopo il restauro meccanico alla fine abbiamo deciso anche di verniciare alcune parti dell'auto per migliorare l'impatto visivo ci siamo concentrati su tre punti specchietti sotto paraurti e minigone laterali in origine neri opachi questo perché a nostro parere solo cambiando queste poche parti è già sufficiente per ottenere un aspetto più marcato eccoci nella carrozzeria zamboni di castiglione per l'inizio delle operazioni sulle parti interessate ecco tanto per dire stupida è una stupiatta questo qua un difetto l'avevo resi basta che si appoggi un attimino a un qualcosa che si segna subito e si riga subito magari in paraurti nero o venciato in plastica ha una resistenza maggiore questo qua magari un rametto in qualche testuglio non parliamo degli urbi ma si appoggi un po' e si rompe subito quello che stiamo facendo adesso è opacizzare bene la vernice per permettere un migliore grappaggio della vernice nuova i specchietti li rifacciamo i specchietti perché siamo accorti che come vedete sto riproducendo gli spigoli originali invece il tuo precedente li aveva nascosti li aveva negati spessore della verniciatura invece qua c'era uno spigolino prima era tutto coperto alla vernice non si notava più l'origine invece c'è uno spigolino vedete l'inizio della verniciatura vera e propria dopo la base di fondo fatta in precedenza che non ho incluso nel video solo per non avere un video risultante di oltre mezz'ora si può notare qui come Adamo muova il vetro degli specchietti per ottenere una buona verniciatura anche sul lato interno che può sembrare banale ma in effetti se non lo facesse all'atto poi di muoverlo una volta rimontato sull'auto si noterebbe il vecchio nero negli spazi interni che non è esattamente una finitura che ci si aspetta su una Ferrari che ci si aspetta su un'altra che ci si aspetta su un'altra che si aspetta su un'altra allora qui adesso abbiamo verniciato i paraulti che poi verranno montati di seguito e poi proseguiamo con le minigonde che si aspetta su un'altra la macchina viene protetta prima di verniciare ovviamente per evitare di sporcare il resto della vettura che per ora è a posto allora descrivici quello che è stato fatto ma niente adesso abbiamo applicato il fondo il fondo bagnato su bagnato la pica viene verniciata il fondo se tu vedi che hanno già fatto i pezzi precedentemente che poi verranno montati di seguito ok il paraulti frontale è appena stato rimontato con il primo testo direttamente nella cabina di iniziatura manca ancora da rimontare il posteriore da qui abbiamo una bella visuale dello scarico di style con questa angolazione ora mettiamo l'auto sul ponte per completare il montaggio e finalmente vedremo l'auto finita con il look total rosso se vuole l'auto vedo l'ora di vederla bene ragazzi eccoci dopo questi ultimi lavori di carrozzeria l'auto è finalmente ultimata abbiamo deciso appunto di verniciare queste parti per dare un look un pochettino più aggressivo che valorizzasse di più la dimensione la muscolosità della nostra mondial abbiamo deciso di verniciare appunto la parte bassa del paraurti anteriore così come quello posteriore i fascioni laterali e gli specchietti perché come si può notare poi dal risultato finito effettivamente fanno risaltare quello che è il carattere di quest'auto e la fanno anche sembrare più bassa e molto più muscolosa nonostante di fatto non sia cambiato nulla delle proporzioni originali e non sia stato modificato nessun pezzo e il risultato finito è beh, giudicate voi e non è finita perché manca ancora una cosa un test drive d'eccezione con un ospite altrettanto d'eccezione eccoci ragazzi qua vedete il nostro Gianmarco Dica? Oh buongiorno ok dovrebbe funzionare buono pronti per la prima sessione di riprese vai vai buongiorno 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 buongiorno